Noi siamo sempre qui appunto dopo la finale del torneo Under 12, abbiamo qui il terzino destro della formazione del CUS Venezia B, Anna, e chiederemo lei come è andata questa partita e il torneo complessivamente. È andato bene, io ho fatto 5 gol e siamo arrivati quarti. Un bel risultato diciamo? Sì, abbastanza. Sei felice che la tua squadra è riuscita ad arrivare prima ai tuoi compagni? Sì. Ti sei divertito durante questo torneo? Molto. Grazie per la tua opinione su questo torneo e per ora abbiamo concluso, diamo la lina allo studio.